Dalle cose che vi dico, non capite chi sono. Voi siete come quella gente che ama l'albero e ne odia il frutto. E se ama il frutto, ne odia l'albero. Il frutto, il frutto, il frutto. 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 Fai l'artista, non te lo chiede nessuno, nessuno te lo ordina, nessuno ti viene a dire fammi questo, no, solo quando lo sai fare e quando ritengono che tu lo sappia fare, magari qualcuno finalizzato alle sue necessità ti viene a chiedere qualcosa.